Siamo nel cuore del centro storico di Napoli per parlare di street food perché lo street food si concentra in quest'area della città. Non potevamo che partire dagli scavi archeologici del complesso monumentale di San Lorenzo perché pare che tutto abbia origine proprio in questi vicoli che risalgono al primo secolo dopo Cristo. Siamo nel mercato criptoportico e noi abbiamo il privilegio di calpestare quella che era la strada greco-romana di appunto 2000 anni fa dove i partenopei passeggiavano mangiando pane, pitta e altre cose. Qui si vendeva cibo che si consumava per strada quindi ci piace anche immaginare che il progenitore della pizza, una prima idea di pizza sia nata proprio in questi luoghi. Questa è la bottega del Fornaio, questa bottega ha almeno 2000 anni di storia, è una bottega di epoca romana anche se queste strade, queste botteghe sono state costruite su un impianto greco del V secolo a.C. perché come ben sappiamo partenope è stata fondata dai greci e qui si parlava greco. Adesso risalendo appena di 10 metri ci troviamo sul centro del cuore della città e che è anche il centro dello street food della città. Quindi siamo vicinissimi al decumano superiore, quindi via dei tribunali dove l'offerta è della pizza e dei cibi da mangiare per strada è notevole. C'è anche una grande vivacità di persone che ama questo tipo di cibo, che si gode praticamente passeggiando per la città. C'è un miro di carattaccia, un bellissimo, un bellissimo, un bellissimo, un bellissimo. Ci sono state, un bellissimo, un bellissimo... Per me è importante mantenere il banco su strada perché è una cosa che facciamo di famiglia, di tradizione e io mantengo le tradizioni. La pizza fritta di Maria Cacialli qui a Napoli è un'istituzione, qui a Via del Grande Archivio, pur avendo una bellissima pizzeria con una sala anche piuttosto grande, ha voluto mantenere la tradizione del banco su strada. Quindi già dalla mattina qui si servono pizze piegate a portafoglio e la pizza fritta della quale lei è maestra è eccezionale. La sua ha mantenuto poi tra l'altro questo formato molto generoso che qui nel cuore del centro storico di Napoli si usa farla ancora così grande. La pizza fritta tipica napoletana è ripiena di ricotta, cicoli, provola e pepe. In questa zona la pizza fritta è stata sempre servita e fatta dalle donne sotto i grandi portoni dei palazzi storici. Adesso questo non è più possibile, quindi le donne, le famiglie storiche della zona si sono tutte organizzate con un banco su strada e anche poi ovviamente con le sale, con tavoli e sedie. Grazie Luigi. Io mi sono scelta un cupo di mare, però Luigi ne fa di diverse tipologie. Il cupo è un format moderno di street food qui nel centro storico. Siamo in via Sabbiaggio dei Librai e proprio di fronte alla cappella del Monte di Pietà. Ha avuto talmente successo con il boom turistico di questa zona che viviamo felicemente da due anni che hanno aperto diversi punti vendita in giro per la città, ma anche in altre città italiane. Giusto Luigi? Abbiamo due franchising, una a Cosenza e il prossimo alla mezz'attempo. Che dire, in questo cuoppo troviamo quello che noi a Napoli chiamiamo fravagli, ovvero pesciolini freschissimi, perché Napoli fortunatamente è una città di mare e quindi possiamo godere del pescato giornaliero che arriva da Mergellina, arriva da Pozzoli, ma ancora tantissimo anche dal porto di Torre del Greco. Grazie. Nei anni 50-60 i napoletani usavano tantissimo andare a passeggiare sul lungomare e si deliziavano comprando dei taralli che venivano accompagnati tradizionalmente con della birra. Anche nelle feste il tarallo su Gnieppepe non mancava mai. È ancora molto molto usato e nelle case e dai turisti, perché questa zona da due anni è stata invasta totalmente dai turisti e quindi viene consumato passeggiando qui nel centro storico. Il panificio è il panificio Coppola dal 1962 e sfornano centinaia di taralli al giorno. Allora prendiamo per prima cosa le mandorle, le lasciamo essiccare a una temperatura di 50-60 gradi per un paio d'ore. Tutta l'umidità all'interno della mandorla viene espulsa. Aggiungiamo lo strutto, la farina, il pepe. Allora consideriamo che su 10 kg di farina ci sono 2,2 kg di strutto. Oggi la forma Vincenzo l'ha un po' modificata, l'ha curata di più, c'è più presenza soprattutto di mandorla. Prima le mandorle erano di meno, se ne mettevano due o quattro in superficie così giusto per ricordare che all'interno c'era la mandorla. È diverso diciamo da quello classico, si è un po' perfezionato negli anni, si lascia a lievitare, dopodiché si inforna, esce il tarallo precotto. Si abbassa la temperatura del forno, lo si rinforna, lo facciamo, lo rilasciamo raffreddare e lo serviamo. Il decumano maggiore, quindi via dei tribunali, è la via dello street food napoletano, tra questi c'è anche il babà perché Napoli non si è fatto mancare sicuramente il dolce. È fatto con la farina forte, sale, zucchero, lievito, burro e uova. E noi ci aggiungiamo anche sempre un po' più bassa di vaniglia. Così si vede la maglia glutine, che è talmente elastico, perciò abbiamo, quando facciamo il babà, si dà il morso, è come la spugna, ritorna indietro quando lo frizziamo. Molto semplice nella pasta che però viene levitata più volte. Dopo la terza levitazione facciamo questo processo, è molto elastico, è un fattore di maglia glutine, si impasta e si mette lo stampo. È un dolce di origine polacca, che poi i napoletani con il loro estro hanno reso così saporito imbevendolo nel rum. Si mette sotto sopra, così automaticamente tutto l'eccesso del liquore scende giù. Una volta che scende giù, questo è il processo di frizzare il babà e questo è molto importante. Quando si vede che il babà torna indietro per come stava prima, si vede che l'importante significa che la maglia glutine è ben elastica, altrimenti non parebbe questo ritorno. Quindi è particolarmente semplice, si può mangiare in questo formato passeggiando, poi ovviamente i capparelli si sono inventati anche dei formati giganti da consumare a casa o mignon da regalare. È talmente buono, è talmente apprezzato tra i napoletani che quando una persona ci piace particolarmente, noi usiamo dire sinubabà. Grazie. 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 Grazie.